Dei tre consiglieri comunali che a Ribera hanno costituito il gruppo consigliare di Forza Italia che si colloca all'opposizione dell'amministrazione Pace, fa parte anche Giuseppe Tramuta che a differenza degli altri due consiglieri era stato eletto nella lista civica ispirata dall'attuale sindaco. Perde pezzi dunque la maggioranza che sostiene l'amministrazione guidata da Carmelo Pace. I tre consiglieri che fanno parte del gruppo di Forza Italia vengono ognuno da tre liste civiche diverse. Il sottoscritto viene dalla lista Il Ponte, comunque una lista di opposizione fin dall'inizio. La signora Margherita Farruggia proviene dalla lista svolta a Ribera, anche questa è una lista che proviene dall'opposizione. E il collega avvocato Giuseppe Tramuta proviene dalla lista del sindaco Ribera, una lista di maggioranza. L'altro giorno abbiamo cercato di definire per sommi capi quello che sono i nostri progetti, i nostri programmi per Ribera. Tramuta ha voluto soltanto sottolineare un aspetto che comunque è consolidato e che non trova assolutamente frizione tra noi componenti. Quello di essere soggetti critici e attenti a quello che ci dirà l'amministrazione Pace sulle varie proposte. Quindi non un'opposizione o una critica cieca, ottusa e chiusa, ma una critica che sia costruttiva, propositiva e senza paraocchi. Questo è il nostro filtro che vogliamo attuare per le politiche di Ribera. Maggioranza in consiglio comunale che dunque passa da 12 a 10 consiglieri, dopo che nei mesi scorsi era stato il consigliere Pino Quartararo, anche lui eletto in una delle liste a sostegno di Carmelo Pace, a dichiararsi indipendente e ad aderire al coordinamento giù le mani da Ribera, costituito dai consiglieri di opposizione. Tramuta si atterrà alla linea del partito e la linea del partito non è essere maggioranza strutturata della giunta pace, il quale ha perso anche il consigliere Pino Quartararo che è passato indipendente. Quindi il dato politico è questo, da una maggioranza consolidata di 12 consiglieri adesso si profila una situazione di 10 contro 10. Per l'opposizione c'è una spiegazione di questo malessere all'interno della maggioranza, opposizione che poi rivendica il risultato dell'altra sera in consiglio comunale quando sono state approvate due varianti allo strumento urbanistico. Il re è nudo, è quello il problema, quello che noi abbiamo evidenziato dai palchi fin dalla data delle elezioni e subito dopo i primi passi della giunta pace, è tutta basata su manifestazioni che hanno tanto di effetto scenico ma di sostanza c'è poco, sono tanti i temi che noi abbiamo cercato di toccare con mano e in più votazioni anche da ultimo senza la presenza dell'opposizione in primo luogo non si sarebbe raggiunto il numero legale né in prima seduta né in seconda seduta. Punto secondo degli aspetti importanti per la cittadinanza di Ribera, se non c'erano i voti dell'opposizione la maggioranza pace non riusciva a cavare un ragno dal buco. Quindi noi l'abbiamo fatto nell'ottica appunto di venire incontro alle esigenze urbanistiche del popolo riberese. Opposizione che vuole continuare ad essere vigile sui grandi temi che riguardano la comunità riberese, a cominciare dalla vicenda rifiuti. Ribera ha un'altissima percentuale di raccolta differenziata che l'amministrazione conta di aumentare non appena entrerà a regime il piano aro e dunque la gestione in aus del servizio. Rispetto a questa vicenda, qual è la vostra posizione? Allora la nostra posizione innanzitutto è di chiarezza, cerchiamo di chiarire che il dato percentuale è un dato un po' artefatto, poiché non è chiarito la percentuale di sovvallo, cioè di rifiuto che non è stato riutilizzato e rielaborato ma che deve poi tornare in discarica. Quindi non siamo assolutamente al 70-78% ma siamo decisamente meno. Per quanto riguarda la scelta in aus noi ci siamo opposti, abbiamo cercato di far ravvedere il sindaco proponendo il modello sciacca che secondo noi è un modello comunque funzionale. In maniera apodittica si parlava di costi maggiori però nel momento in cui cercavamo di portare degli esempi ecco che sfuggivano gli esempi concreti. Da ultimo ci dice il sindaco che prima della sua fine del mandato, anzi mi auguro che ripristinerà le relazioni semestrali e che alla fine, come dice lui, partorirà una sorta di calcolo comparativo tra la scelta politica di sciacca, quella di affidarla a una società esterna e quella in aus con il ribera ambiente e vorrà dimostrare, noi saremo molto curiosi di vedere se effettivamente il dato è conveniente quello di ribera di sciacca. Un'ultima cosa per quanto riguarda il ribera ambiente è stato nominato l'architetto Lobrutto che ha un curriculum veramente di tutto rispetto e è giusto anche chiarire che oltre a essere un valido manager è anche un uomo politico, presidente del Consiglio Comunale di Castrofilippo quindi ci aspettiamo anche una sensibilità oltre che tecnica, una sensibilità politica.